Oroscopo del giorno, domenica, 7 gennaio, 2018. Ariete. Lavoro, a livello professionale sarete titubanti su alcune questioni. Cercate di portare avanti con prudenza i vostri progetti. Toro. Amore, buona partenza di giornata, venere è molto favorevole riguardo la vostra vita sentimentale, ma fate attenzione a qualche difficoltà nel rapporto a causa di incomprensioni. Se siete singola avvertirete la necessità di ribellarvi ad alcune situazioni non più sopportabili. Lavoro, il lavoro troppo abitudinario vi annoierà, ma non fate mosse azzardate, a fine mese ci saranno delle spese. Gemelli. Amore, domenica un po movimentata, potrebbe esserci qualche tensione in amore. Se avete avuto qualche problema cercate di risolverlo ed evitate fraintendimenti. I cuori solitari non dovranno sottovalutare le conoscenze casuali, tra di esse potrebbe celarsi lanima gemella. Lavoro, la sfera lavorativa vi dà belle soddisfazioni, oggi potrete recuperare trattative che sembravano sfumate. Cancro. Amore, oggi tutto sembra pesarvi più del solito. Il vostro stato di agitazione potrebbe creare problemi anche nelle relazioni più durature. Diatribe anche in ambito familiare. I single dovranno occuparsi solamente di conquistare la persona desiderata se vorranno vivere sereni. Lavoro, state per avere un incarico importante, prendetevene cura per dimostrare quanto ci sapete fare. Leone. Amore, se avete avuto una delusione d'amore e state cercando di dimenticare è il momento buono per voltare pagina. Cogliete le cose belle che vi riserva questa giornata. I single potranno vivere un momento di agitazione per qualche malinteso. Serata movimentata. Lavoro, ottime occasioni per sistemare la situazione lavorativa e anche quella economica. Siate pronti a rivedere tutto. Virgine. Amore, giornata molto interessante, l'amore procede senza intoppi e potrete dedicare al partner coccole e tenerezze. L'intesa ne trarrà beneficio. Ci saranno tante occasioni in amore anche per i cuori solitari. Molti di voi incontreranno la persona del cuore. Lavoro, oggi potrebbe esserci una chiamata di lavoro stimolante. Domenica proficua anche per coloro che iniziano progetti importanti. Bilancia. Amore, non ci sono molte certezze nella vostra vita sentimentale e qualche pensiero di troppo rischia di farvi confondere. Se siete in coppia non date un'immagine sbagliata di voi. I cuori solitari faranno incontri interessanti che apriranno nuovi orizzonti. Lavoro, se avete un'occupazione lavorativa insoddisfacente potreste avere nuove opportunità per cambiare, ma state attenti. Scorpione. Amore, giornata strepitosa, le rosse alle stelle e farà scomparire qualsiasi incomprensione con il partner. Tra baci e carezze riuscirete a far svanire qualche vostro errore. Per i single sarà una giornata ricca di novità e di incontri piacevoli. Serata in ottima compagnia. Lavoro, state per cambiare vita, anche se sembra molto faticoso, ma dovete avere più fiducia nelle vostre capacità. Sagittario. Amore, grazie al passaggio di mercurio nel segno ci saranno grandi emozioni e soddisfazioni in arrivo per voi del sagittario. L'amore va a gonfie vele. Singola alla riscossa, siete pronti per le conquiste? Oggi farete faville, nessuno vi resisterà. Lavoro, la vostra grinta sarà determinante per sfruttare al meglio le occasioni possibili in ambito lavorativo. Capricorno. Amore, inizia una fase di recupero, molti di voi potranno concretizzare progetti come il matrimonio, altri di convivenza. In ogni caso, l'amore vince su tutto. Per i single potrà succedere qualcosa di speciale. L'amore riserverà nuovi incontri. Lavoro, se avete fiuto per gli affari, oggi potrete programmare iniziative che andranno sicuramente in porto. Acquario. Amore, giorno importante in amore, chi ha avuto difficoltà a dialogare potrà riscattarsi e vivere momenti intensi con la persona amata. La complicità sarà alle stelle. I single oggi andranno a caccia di novità e nuove flirt risveglieranno le emozioni. Lavoro, la giornata si rivelerà importante sul piano finanziario, oggi ci saranno ottimi guadagni che non vi dispiaceranno. Pesci. Amore, oggi avrete addosso una bella energia e ritroverete la voglia di ridare linfa alla vita di coppia. Avrete una gran voglia di fare progetti a lungo termine. I single dovranno essere più chiari e concreti e far capire chiaramente cosa vogliono dalla vita. Lavoro, è giunto il momento di farvi sentire, l'unico ostacolo potrebbe essere la pigrizia o la paura di sbagliare. . . . . . Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. . 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